Questa società sostanzialmente non ha alcuna esperienza nella gestione degli impianti sportivi e la seconda è che è stata formalmente creata il 25 gennaio, mentre la scelta, il verbale, è del 14 gennaio, quindi 11 giorni prima. Quindi sostanzialmente è stato aggiudicato questo lavoro ad una SRL che non si era ancora costituita. Si deve per forza far vedere che noi non vogliamo dare un contributo fattivo, invece la nostra posizione era essenzialmente per tutelare sia il comune e sia i cittadini, perché purtroppo se adesso qualcuna delle altre società dovesse opporre una resistenza, significherebbe che questi campi sportivi purtroppo verranno realizzati con tantissimo ritardo. Pensavamo che la storia della Fidi avesse insegnato qualcosa a questo comune, ma evidentemente invece non è così. È una gara che in realtà non c'è stata, perché per questa riqualificazione hanno proposto la propria progettualità a quattro privati e la scelta tra questi quattro è ricaduta su uno dei partecipanti, scelta fatta dalla commissione tecnica del comune di Pescara, che però non ha motivato in nessun modo questa scelta, quindi senza indicare alcun tipo di criterio, di graduatoria, di punteggio o altro. Quindi una scelta del tutto arbitraria che getta molti dubbi e molte perplessità su quella che invece dovrebbe essere una procedura pienamente trasparente secondo quei principi che dovrebbero sempre guidare un'amministrazione pubblica.